Benvenuti nel nostro video tutorial. Gentili utenti, oggi vi mostriamo le nostre mascherine personalizzate con stampa digitale senza limite di colore. Come potete vedere, le mascherine sono a forma esagonale, in modo da rimanere aderenti al volto della persona che le indossa. Si tratta quindi di un prodotto molto comodo anche in virtù del fatto che tutte le cuciture sono sormontate da una fettuccia molto morbida che consente un impatto ottimale con la pelle. Le nostre mascherine sono a doppio strato di materiale traspirante, in modo da rendere ottimale la respirazione di chi le indossa. Ci teniamo infine a sottolineare che questo articolo non è un dispositivo di protezione individuale. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video tutorial. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.